Nel Paese dei Mostri Selvaggi è il libro che vi presento oggi. Questo è un classico della letteratura per l'infanzia ed è diciamo uno di quegli albi illustrati che hanno fatto storia e che quindi per molti non può davvero mancare nella libreria dei propri figli. Per lungo tempo è stato anche introvabile. Prima era stato editato da Babalibri, poi per una serie complessa di diritti che non vi so spiegare, c'è possibilità che a ottobre venga pubblicato da Adelphi e quindi potrete ritrovarlo perché altrimenti era impossibile trovarlo e quindi lo si trovava solo magari in inglese. Quindi questo libro passa a un concetto molto semplice ed è secondo me uno dei libri più belli scritti sulla rabbia, ce ne sono molti sulla rabbia ma nel Paese dei Mostri Selvaggi secondo me è davvero uno dei migliori. La rabbia ha un sentimento come un altro che quindi non va represso ma al contrario va esplorato, va attraversato per essere comunque compreso, gestito e anche superato. Ed ecco che quindi dopo averla attraversata fino in fondo e averla in qualche modo esplorata la rabbia può anche passare. Il libro è molto bello perché anche graficamente ci racconta questa cosa, ossia all'inizio vediamo che l'illustrazione è limitata in un riquadro, man mano però che la storia avanza è che la rabbia del protagonista esplode. L'illustrazione vediamo che riempie tutta la pagina quindi nel momento di massimo sfogo non c'è neppure più spazio per il testo perché il disegno ha preso il sopravvento su tutto. Quindi arrivate all'apice della rabbia dopo averla attraversata quindi non repressa si può solo tornare indietro e quindi superata la collera si torna alla normalità e anche l'illustrazione comincia comunque piano piano a ritornare in un riquadro. Le illustrazioni di questo libro sono meravigliose, sono realizzate a china e sono anche di forte impatto e devo dire che i personaggi di questo libro sono mostruosamente belli. La trama alla fine è molto semplice, il piccolo Max ne combina di tutti i colori e la mamma accusandolo di essere un mostro selvaggio lo mette in castigo nella sua stanza. Quindi allora è in quel momento che Max sfoga la sua rabbia e la sua frustrazione attraverso un viaggio fantastico nel paese dei mostri selvaggi che in realtà è un viaggio dentro se stesso alla conquista e alla scoperta della consapevolezza. Infatti diciamo che questo viaggio nella fantasia diventa quasi catartico per Max. Non solo è diventato il re dei mostri selvaggi ma ha rimesso in scena la sua rabbia e quello che appunto a lui era accaduto a ruoli invertiti quindi è come se lui fosse diventato la madre che anziché appunto mette in castigo questi mostri mandandoli a letto senza cena perché hanno fatto troppo baccano. Ed ecco quindi che dando sfogo e dando spazio alla sua rabbia attraverso il gioco la rabbia in qualche modo scema, scompare e quindi Max potrà tornare alla normalità, alla sua quotidianità e sentire addirittura nostalgia di casa. E quindi la fantasia dei bambini in questo senso può essere catartica perché dare spazio alla rabbia attraverso il gioco permette di buttarla fuori e in qualche modo di domare quel mostro selvaggio che alberga in ognuno di noi quando perdiamo il controllo. Quindi questo libro è un inno alla libertà, alla creatività. È d'accordo anche il cane. È un libro molto onesto che mette in scena le dirompenti emozioni dei bambini e la loro vulnerabilità al tempo stesso.